Bentornati su MyFootballJersey. Questa che vedete è la seconda maglia del PSV a Inloven per la stagione in corso da 2023-2024. In edizione fan, vi ricordo l'edizione fan è quella un po' più comoda, pensata per i tifosi. Questa è un po' più comoda. Cosa ne pensate? Io ormai ho visto tutte le maglie dei Big Club, quindi ho deciso di prendere anche un po' quelle alternative. Non se ne offendano i tifosi del PSV. Comunque è una bella maglia, è veramente bello. È bello questo colore, è bello le rifiniture fatte di questo giallino-verdino. Spero che il video l'abbia visto. La qualità non è niente male, i tempi di spedizione molto molto buoni e il costo come vedete non lascia scampo a dubbi. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però iscrivetevi al canale e lasciatemi nei commenti alcune vostre considerazioni e soprattutto ditemi quali altre maglie vorreste vedere. Per oggi è tutto, alla prossima!